Partiti 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 All'inizio della curva prosegue in vantaggio Occhio della Mente davanti a Demeteor, Slowpoke, Aurelio il Grande, Virtual Game e Xilosio. Poco prima dell'ingresso in dirittura in vantaggio Occhio della Mente davanti a Slowpoke, Demeteor e Virtual Game. I cavalli entrano in dirittura con Occhio della Mente in vantaggio lungo la corda davanti a Slowpoke, Demeteor, Aurelio il Grande, Virtual Game e Xilosio. E sempre in vantaggio lungo la corda Occhio della Mente davanti a Slowpoke, Demeteor, Aurelio il Grande, Virtual Game e Xilosio. In vantaggio Occhio della Mente attaccata all'esterno da Slowpoke a centropista Aurelio il Grande, seguono Demeteor, Virtual Game e Xilosio. In leggero vantaggio Slowpoke davanti a Occhio della Mente, Aurelio il Grande e Virtual Game a centropista. Conduce Slowpoke davanti a Xilosio, Aurelio il Grande e Virtual Game. Aurelio il Grande e Virtual Game. Aurelio il Grande e Virtual Game. Grazie a tutti